Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Teresa Cherubini, figlia di Giovanotti e Francesca Valiani, esordisce così in un lungo post su Instagram, nel quale rivela di aver combattuto di recente contro un tumore, un linfoma di Hodgkin. Adesso che è guarita, ha così deciso di raccontare la sua esperienza sui social, parole subito ricondivise anche dal cantatore cortonese. Tutto è iniziato ad agosto 2019 con un prurito alle gambe, scrive Teresa. Non ci ha dato peso pensando che sarebbe andato via, ma così non è stato. I mesi passavano e non faceva che peggiorare. A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo. Non riuscivo a dormire più di un paio d'ore a notte, avevo la pelle piegata. Quando mi si è ingrossato il linfonodo sul braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure, che sono appunto iniziati in estate. Ho fatto sei cicli di chemioterapia seguita dal meraviglioso staff dell'OIEO a Milano. Non mi sono caduti i capelli, ma il 9 dicembre, dopo l'ultimo trattamento, ho deciso comunque di dasarmi come segno di un nuovo inizio. Poche ore fa, dunque, il lieto fine della vicenda. Dopo mesi di ansie e paure, la storia si è conclusa. E posso raccontarla perché dal 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita. La paura non è andata via, conclude Teresa, e ci vorrà tempo perché posso affidarmi di nuovo del mio corpo. Ma non vedo l'ora di ricominciare a vivere.